un caffè a parioli zona di roma ragazzi utenti di youtube buonasera salve a tutti una zona di quelle più in che esista roma parioli famosa zona di forma di estetica e adesso vi faccio vedere questo bellissimo caffè guardate che spettacolo ragazzi freddo scheggerato buonissimo gradevole gustoso piazza questo è il caffè scheggerato ripeto e adesso il ginseng di qualità eccellente ragazzi ho bevuto raramente caffè così buoni questo è il miglior caffè che ho vinto in tutta la mia vita di un sapore eccellente parioli zona parioli zona meravigliosa guardate che spettacolo ragazzi godiamoci la bella vita godiamoci la bella via doppio caffè qui costano i costi di caffè ragazzi ma 3,50 spesi bella da dire ricca di fascino ricca di bellezza e soprattutto zona non mancano le persone non mancano non mancano la gente gli americani c'è una panoramica spettacolare il colori della natura sono veramente straordinari da vedere buonissimi voto 10 ragazzi un caffè di un sapore di una bontà incredibile ecco godere di piccoli momenti godiamo di piccoli anche le più piccole delle cose perché un giorno non le avrete più vi scapperanno via goderevi i più piccoli momenti anche meglio più brevi perché sono importanti azzardo a dire che però zardo a dire ci sono anche bellissime ragazze che romano tutte ragazze stupende miniconne corte ragazze grande esplosive ricoltè fantastici torni ragazze bellissime facciano anche i sexy intriganti quindi anche questo è un valore aggiunto ragazzi parioli ripeto con dietro un panorama sublimetico straordinario allenato è tutto iscrivetevi al canale conoscete l'italiano commentate attivate la campanella ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti